Sulmona sta incarnando una vera discriminazione nei confronti dei suoi figli più deboli tenuti lontano da un'iniziativa, la città rinegato e i suoi figli più bisognosi. E quanto afferma in una nota il referente di sovranità, Valle Pelini e Alberto Di Giandomenico, che esprime la sua contrarietà all'accordo che sarà siglato tra Comune di Sulmona, Casa Sandra e l'Annunziata e Prefettura per impegnare 25 emigranti e ospiti in città, i lavori socialmente utili. Se davvero lo scopo è integrare, cominciare a dare spazio anche a coloro che da tempo cercano casa, parcheggio popolare o un impiego qualsiasi ma sicuro e decentemente retribuito, tuona di Giandomenico, che aggiunge, sarà data ai 25 anche la possibilità di imparare qualche mestiere per inserirli nel mondo del lavoro. Fate sapere anche a noi dove troverete i posti di lavoro in questa valle, perché non ne vediamo, eccetto quel poco che la macchina dello sfruttamento umano traduce in schiavismo. Ora si vorrebbe far passare questa iniziativa per qualcosa di buono per la città, per i beni dei migranti che altrimenti si abbandonano in contesti particolari. Siamo tutti convinti che dopo mesi di ozio e 25 andranno a pulire, si chiede di Giandomenico. L'intesa, prosegue i referenti di sovranità, ancora da firmare, dovrebbe favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti che la Casa Santa sta tenendo a Sulmona ormai da mesi e quando sarà loro negato lo status di profughi non crediamo certo che saranno riaccompagnati nei loro paesi d'origine. Controlli e previsioni future, se la loro permanenza sono state fino ad ora evitati, quando finiranno i contributi europei? Chi li sfamerà? Forse la Casa Santa? Si domanda ancora di Giandomenico, che se la prende anche con il primo cittadino Peppino Ranalli. Al sindaco rivolgiamo l'invito a continuare ad indossare la maschera del buonismo più becero. La gente di questa città non te riconosce, chiosa di Giandomenico.